Musica Covid-19 in Basilicata, 82 nuovi casi positivi al virus su oltre mille tamponi analizzati Scuola e rientro in classe, i presidi bocciano gli ingressi differenziati Upi Basilicata al governatore Bardi, Cico Involga per il piano strategico Sanseverino Lucano in diretta su TRM Network, il festival Gregorio Strozzi Ben ritrovati con l'informazione di TRM, ora subito un piccolo break pubblicitario poi ci ritroveremo per approfondire insieme le principali notizie di oggi, tra poco Ben ritrovati, apriamo con l'emergenza coronavirus, vediamo allora gli ultimi aggiornamenti sui contagi dal bollettino giornaliero Lucano La task force regionale della Basilicata comunica che nella giornata del 19 dicembre sono stati processati 1039 tamponi per la ricerca di contagio da coronavirus dei quali 82 sono risultati positivi e di questi 71 riguardanti residenti in Basilicata Tra le positività riscontrate si segnalano 11 residenti fuori regione, 17 residenti a Potenza 7 a Venosa, 4 a Davigliano, 4 a Lavello, 4 a Marsico Nuovo e 4 anche a Matera Nella stessa giornata sono inoltre guarite 44 persone, mentre non si sono registrati decessi Sono 102 le persone ricoverate inoltre negli ospedali Lucani All'ospedale San Carlo di Potenza 36 pazienti sono ricoverati nel reparto di malattie infettive 22 in pneumologia, 10 in medicina d'urgenza e 4 in terapia intensiva All'ospedale Madonna delle Grazie di Matera invece 16 persone sono ricoverate nel reparto di malattie infettive 9 in pneumologia e 5 in terapia intensiva Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 174.328 tamponi 162.199 dei quali sono risultati negativi Adesso parliamo di scuola, rientro in classe I presidi bocciano la proposta di ritorno in classe a orari differenziati Ingressi scaglionati per gli studenti delle scuole superiori 17 dirigenti scolastici blocciano la decisione presa dal tavolo di coordinamento per le misure anti-covid Presieduto negli scorsi giorni dal prefetto di Potenza Vardè Sono 10 dirigenti scolastici potentini con il sostegno di altri 7 colleghi materani I firmatari di un documento in cui i presidi sollevano la contestazione Sul fatto che gli orari differenziati penalizzerebbero almeno il 25% degli alunni E metterebbero in difficoltà anche i docenti e personale ATA Il tavolo di coordinamento aveva stabilito due orari differenziati per l'entrata in classe Dalle 8 del mattino per le scuole secondarie superiori del triennio E dalle 10 per quelle del biennio La rimodulazione dell'orario, spiegano i presidi, comporta grandi difficoltà Molti docenti lavorano in più scuole sparse nei comuni della provincia oltre che nel capoluogo Inoltre, tra il personale, molti sono i pendolari E con questo provvedimento sarebbero messi in grande difficoltà per il rientro a casa a fine orario di lavoro Garantire agli studenti di rientrare in classe è una priorità assoluta Sottolineano ancora i dirigenti scolastici Ma i tempi ristretti non consentono di convocare gli organi collegiali Senza i quali le scuole non possono dare attuazione all'eventuale riorganizzazione Bisogna trovare soluzioni compatibili con il proficuo svolgimento delle lezioni UPI Basilicata ha chiesto al presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi Più coinvolgimento per il piano strategico Il presidente regionale dell'Unione delle province italiane, Piero Marrese In una nota ha chiesto al presidente della giunta regionale della Basilicata Vito Bardi Di mettere a punto un piano di interventi e strategie che coinvolga a pieno le province lucane Pronte a dare la massima collaborazione per discutere sulle modalità di rilancio e sviluppo dei singoli territori Con la richiesta che rientra nella prospettiva di definizione del piano strategico della regione Viene auspicato l'avvio di un tavolo di confronto tra tutti i soggetti istituzionali Oggi più che mai, aggiunto Marrese, noi amministratori abbiamo il dovere di cooperare Per affrontare insieme e risolvere le tante criticità che attanagliano le nostre comunità Ed in questa particolare fase storica di emergenza in ambito sanitario ma anche di grave crisi Per l'intera economia del paese non possiamo più permetterci passi falsi Secondo l'UPI il piano strategico indicato dalla giunta regionale non può non rappresentare Uno strumento indispensabile per lo sviluppo futuro della Basilicata E in tal senso deve essere condiviso da tutti i soggetti rappresentanti di ogni settore E l'UPI Lucana si farà parte attiva nell'individuare le giuste politiche di sviluppo e le priorità da definire Marrese è infine indicato settori trainanti come turismo, cultura e altri che hanno bisogno di rilancio Parliamo di gare e trasporti, l'assessore regionale al ramo Merra lunedì la prima consultazione pubblica online Nell'ambito delle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico L'Ufficio Trasporti del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della regione Basilicata Ha indetto una consultazione pubblica online attraverso la piattaforma Zoom Che si terrà il 21 dicembre dalle 10 alle 13 Nel corso dell'iniziativa promossa dall'assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra Verrà presentata la proposta della regione Basilicata per la redazione dei bandi E delle convenzioni relative alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico urbano Ed extraurbano e per la definizione degli schemi dei contratti di servizio Domani presenteremo la prima bozza del piano economico finanziario che verrà messo a base di gara Ovvero faremo una consultazione pubblica nel quale rappresenteremo a tutti gli stakeholder sul mercato E alle parti sindacali quelli che sono stati i risultati di questa prima fase di gara Ovvero l'analisi e la raccolta di tutti quelli che sono i dati legati ai mezzi di trasporto insistenti in Basilicata E che potranno essere messi a base di gara Il personale sul quale tutto la parte delle risorse umane Quindi il personale che dovrà essere garantito nel caso di affidamenti Nel momento in cui si concretizzeranno gli affidamenti alle future aziende Le prime condizioni base su cui verranno poste nel disciplinare di gara E' un documento preliminare previsto dai regolamenti dell'ARS Dell'autorità di regolazione dei trasporti Che rappresenterà i contenuti fondamentali di quello che sarà poi il vero e proprio disciplinare di gara E andiamo a Matera per parlare del nuovo plesso dell'istituto comprensivo Francesco Torraca I consiglieri Sassone, Doria e Schiuma contestano le scelte della maggioranza Ma il sindaco Domenico Bennardi risponde I consiglieri comunali Rocco Luigi Sassone, Giovanni Schiuma e Pasquale Doria In una nota stampa hanno dichiarato di essere in contestazione con la scelta del governo cittadino di Matera Di non discutere nel merito i rischi connessi alla viabilità nei pressi del prossimo nuovo plesso Dell'istituto comprensivo Francesco Torraca Che sarà realizzato nell'area dell'ex centrale del latte Nello specifico i consiglieri contestano al sindaco della città dei Sassi Domenico Bennardi Il reiteramento acritico così definito delle scelte della passata amministrazione Oltre che all'indisponibilità al dialogo costruttivo su questioni di interesse pubblico Altro aspetto cardine della contestazione nel merito dello spostamento del plesso scolastico È, secondo i consiglieri firmatari, la mancata adozione di misure Per contenere il prevedibile esodo di bambini e genitori alla guida delle loro auto In un luogo della città che già subisce il traffico nell'ora di punta Dalla sua il sindaco ha precisato che sulla scelta ereditata Si stanno ancora facendo valutazioni Sarà premura dell'amministrazione avviare un dialogo costruttivo sul tema È ovvio che è nostra premura a cercare di avviare una serie di colloqui con gli ordini E aprirci il più possibile con il mondo scolastico e con la città tutta Per un'urbanistica partecipata dove le scelte possano essere condivise In particolare su Piazza della Visitazione stiamo facendo un lavoro di questo genere Stiamo rivedendo il progetto proprio anche perché riguarda la scuola della Torraca Scuola che non sarà in questo momento toccata Nel momento in cui si deciderà per l'ex barilla come ubicazione dopo un confronto aperto e pubblico Allora andremo a rivedere la struttura della Torraca E ora una doverosa precisazione Nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica di Cagliari È stata eseguita a Matera la misura cautelare degli arresti domiciliari A carico di Salvatore Grimaldi Capitello Direttore fino a giugno 2019 dello stabilimento Italcementi di Samazzai in Sardegna Italcementi che non risulta destinataria di provvedimenti cautelari E non è a conoscenza di un'indagine nei propri confronti Ribadisce il proprio impegno per una gestione operativa Orientata verso uno sviluppo industriale sostenibile a tutela dell'ambiente Nell'ambito del procedimento pendente presso la Procura di Cagliari Italcementi ha offerto ampia collaborazione e piena disponibilità A porre in essere tutte le attività rimediali richieste dalla legislazione italiana E adesso parliamo invece di Natale 2020 Il Partito Democratico di Matera ha promosso l'iniziativa Solidarietà in Circo Lo vediamo La grande partecipazione e generosità di cittadini simpatizzanti e iscritti al partito Ha permesso in soli tre giorni di raccogliere una notevole quantità di generi di prima necessità Che saranno donati a Don Angelo Tataranni Il Partito Democratico di Matera, promotore dell'iniziativa Solidarietà in Circo Ha raccolto numerosi generi di prima necessità e oltre 1500 mascherine chirurgiche Abbiamo accolto con gioia la campagna promossa dal segretario nazionale Nicola Zingaretti Afferma Luigi Gravela a nome del coordinamento del circolo di Matera Con il supporto dei giovani democratici anche nella nostra città Ci siamo mobilitati nella raccolta di generi alimentari a sostegno delle persone e delle famiglie più in difficoltà In tanti, ha continuato Gravela, hanno voluto contribuire portando olio, pasta, riso, pomodori, tonno e molto altro Prodotti per l'infanzia e l'igiene personale della casa Abbiamo anche ricevuto la donazione di ben 1500 mascherine chirurgiche, tanto utili in questo periodo Adesso porteremo tutti i prodotti a Don Angelo Tataranni Che potrà disporne per prestare soccorso alle tante famiglie che a lui si rivolgono La politica, ha concluso Gravela, è e deve essere esattamente questo Occuparsi della vita reale delle persone, dei loro problemi, delle loro fragilità, dei loro diritti, talvolta negati Perché solo così l'Italia potrà davvero ripartire e solo così nessuno sarà lasciato solo Solo così la nostra società sarà davvero migliore E parliamo ancora di Natale 2020, sentiamo le voci del presepe di Avigliano Le voci del presepe, arti e ritratti della comunità aviglianese Basilicata Cultura, in collaborazione con il comune di Avigliano, presenta quella che è, a tutti gli effetti Un'esperienza audiovisiva, narrativa e itinerante alla scoperta del territorio aviglianese E degli antichi mestieri che ne rappresentano l'identità e l'autenticità Un progetto che mira a coinvolgere l'intera comunità, creando un percorso di unione tra la città di Avigliano e le sue frazioni I protagonisti sono persone reali e che raffigurano quei personaggi del presepe quasi sempre in secondo piano Rispetto ai più ben noti protagonisti della natività Si presentano attraverso suggestivi audio racconti comparendo contemporaneamente come videoproiezioni In formato gigante sulle superfici di edifici e chiese delle location interessate Per poi ritrovarsi uniti sotto la luce dello stesso proiettore In un collage di ritratti conclusivo che riassume questo presepe inedito Uno spettacolo interattivo a tappe pensato per mantenere vivo lo spirito natalizio Pur rispettando le attuali normative anti-covid Sarà infatti possibile interagire con queste opere evitando ogni forma di assembramento I passanti occasionali potranno scoprire e conoscere di volta in volta Un nuovo personaggio spostandosi all'interno del comune di Avigliano In determinate fasce orarie da domenica 20 a mercoledì 30 dicembre 2020 Ogni utente potrà ascoltare i brevi racconti utilizzando il proprio smartphone Al termine dell'operazione l'intera esperienza audiovisiva Resterà comunque disponibile sui canali YouTube Le Voci del Presepe È comune di Avigliano e sulle piattaforme social del comune stesso Ideazione e supervisione del progetto a cura di Davide Guglielmi e Valerio Zito In collaborazione con l'artista Silvio Giordano È in diretta su TRM Network da San Severino Lucano il festival Gregorio Strozzi La resilienza culturale non conosce confini e distanza Il Covid non ha infatti fermato il festival Gregorio Strozzi di San Severino Lucano Dove viene omaggiato il musicista e organista nato proprio nel Borgo in provincia di Potenza L'evento musicale giunto alla sua 18esima edizione festeggia la maggiorità in maniera virtuale Attraverso una diretta del concerto tenutosi al Palafrido Nel quale hanno risuonato le note tipiche del 1600 Noi da anni portiamo avanti questi concerti dal 2003 Abbiamo organizzato in passato anche un momento di formazione Nei confronti di ragazzi che sono venuti da tante parti d'Italia E nel corso del tempo abbiamo proseguito in questa manifestazione E ci siamo rivolti in questo anno al musicista Romolo Saccomanni Il tradizionale concerto a ricordo del musicista Lucano è stato omaggiato da tre giovani artisti Romolo Saccomanni al piano, Nicolo Balducci contro tenore e Angelica di Santo soprano La rivalutazione di Strozi costituisce il punto di partenza per riscoprire quel patrimonio culturale della Basilicata Una terra che fa tanto parlare di sé per le bellezze paesaggistiche, per le tradizioni culturali e storiche ma anche per la musica A conclusione della manifestazione arrivano anche gli auguri del sindaco e la speranza di poter rivivere ben presto eventi come questo in presenza Noi speriamo di allietare tutti con questo momento e nello stesso tempo io colgo l'occasione per augurare a tutti un felice Natale Un felice anno nuovo, sperando che il tutto poi si possa svolgere negli anni avvenire in maniera più vivibile e più diretta E torniamo a Matera dove la società di mutuo soccorso ricorda l'ex presidente Franchino Sono passati dieci anni dalla scomparsa dell'emerito presidente della società di mutuo soccorso di Matera, Nicola Franchino E proprio nel giorno del decennale dal tragico evento, la società di recinto 20 settembre ha voluto ricordarlo nella sua sede Insieme al sindaco della città di Matera, Domenico Bennardi e a tutti gli associati Donando a suo figlio, l'avvocato Giuseppe Franchino, una targa e una pergamena commemorative È stata una bella cerimonia, ringrazio il presidente Porcari, il sindaco che mi ha consegnato il ricordo E credo che sia un momento importante questo, perché dobbiamo tutti guardare non solo verso il futuro e il presente Ma considerare anche gli esempi del passato Ora voglio ricordare la figura di mio padre come quella di un uomo che pur avendo raggiunto livelli sociali e culturali notevoli Lui si è sempre prodigato per il sociale, per gli altri e ha riconosciuto sempre in questo sodalizio una sua seconda famiglia Essendo figlio di operaio, ci teneva tantissimo a queste sue origini Per cui ha portato avanti con impegno questo suo ruolo e oggi gli viene riconosciuto questo impegno Anche perché lui è stato colui che ha costituito e ha contribuito a costituire l'archivio storico di questo sodalizio Che rappresenta un pezzo di storia della nostra città Durante la stessa cerimonia poi il sindaco Bennardi ha voluto anche omaggiare il commendator Franco Porcari Per il suo sforzo sia nello sport come ex presidente del Matera Calcio Che come imprenditore nel settore ristorativo nel tenere alto l'onore della città dei Sassi Che ho fatto il presidente della festa della Bruna, presidente del calcio come vice in serie B e in C come presidente Per Matera che è la mia città nativa ci ho sempre tenuto Sin da ragazzo sono stato sempre all'avanguardia Poi quando ho iniziato la mia attività nel 1959 fino quasi al 2000 Poi ho lasciato e va avanti SP vuol dire Santa Sia Porcari E ora parliamo di display, l'evento sul futuro del marketing e della comunicazione in onda su TRM Network Con il mese di dicembre arriva anche il momento dei bilanci e delle valutazioni Che porta con sé quello delle previsioni per l'anno che verrà Per mettere a fuoco il futuro della comunicazione e del marketing Sky Comunicazione ha proposto Display attraverso lo schermo Un evento online di visione dedicato al marketing e alla comunicazione Dal punto di vista dei suoi protagonisti Trasmesso con una diretta streaming il 15 dicembre scorso Domenica 20 dicembre alle ore 16 in onda su TRM H24 In una cornice del tutto inedita grazie alla regia televisiva e a momenti di musica È intrattenimento live Perché guardarlo? Lo abbiamo chiesto a Michele Francese di Sky Comunicazione Ma io invito tutti a seguirlo per due motivi Innanzitutto perché troveranno uno show Di cui secondo me saranno soddisfatti Perché appunto l'abbiamo costruito come uno show innanzitutto di intrattenimento E poi secondo me perché gli speaker sono in grado di trasferire dei concetti In maniera molto semplice ma allo stesso tempo approfondita E quindi secondo me finiranno lo show con un arricchimento rispetto a questi temi Che ripeto sono oramai di interesse di tutti E in chiusura parliamo di Biperbanca che propone Tara Baralla di Natale in 30 pediatrie italiane Biperbanca in collaborazione con Cartusi Edizioni Atelier Elisabetta Garilli Offre ai reparti pediatrici degli ospedali del paese la possibilità di assistere a uno spettacolo musicale Tara Baralla di Natale in diretta streaming domenica 20 dicembre alle ore 16 Dedicato a tutti i bambini ricoverati e alle loro famiglie in occasione delle festività natalizie Sono 30 le pediatrie e le associazioni di volontariato operanti nei reparti di numerose città italiane Compresa Matera che hanno accettato l'invito Oltre 1000 i bambini che si collegheranno alla diretta Ciascuno dalla propria cameretta con un genitore Per vivere tutti insieme la giocosa esperienza dello spettacolo musicale Vera Donatelli di Biperbanca in diretta su TRM Network ha spiegato il valore dell'iniziativa Tutti gli anni Biper organizza per Natale un concerto degli auguri dedicato alla clientela Lo facciamo in un ampio palazzetto dello sport con artisti contemporanei di musica leggera Invitando anche tanti clienti Quest'anno ahimè il Covid non ci ha permesso di farlo E quindi abbiamo pensato a questo streaming Perché poi la tecnologia ci sta dando una grossa mano in questo momento E saremo in diretta oggi pomeriggio alle 4 dal Teatro Storchi di Modena Con l'orchestra, il Garilli Sound Project e con Elisabetta Garilli Per offrire loro Tara Baralla, il tesoro del Bruco Baronessa Che è un po' il progetto che avevamo portato anche proprio a Matera E il nostro progetto per parlare con i bambini di sogni da realizzare Di valore delle cose E per riuscire anche a dare uno strumento attraverso un albo illustrato che ho qui Con me per aiutare le famiglie anche ad affrontare queste tematiche Bene, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima edizione Arrivederci